Tutto è ben quel che finisce bene. La querelle che ha visto protagonisti Alberto Matano e Simona Branchetti, rispettivamente conduttori della vita in diretta e Pomeriggio 5, è finita con una telefonata. Telefonata arrivata da parte dell'ex mezzo busto del Tg1 dopo aver accusato la concorrenza di aver scippato un ospite chiave nella prima parte del programma dedicata alla cronaca nera e più precisamente alla scomparsa di Liliana Resinovic, è stata Simona Branchetti, conduttrice pro Tempori di Pomeriggio 5, a svelare al pubblico che è stata raggiunta telefonicamente da Alberto Matano, con il quale c'è stato un chiarimento lontano dalle telecamere. L'ex giornalista del Tg5 ha aperto così la puntata dell'epifania della sua trasmissione Consentitemi di poter fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è accaduto ieri con la vita in diretta e con Alberto Matano, di cui ho avuto il piacere di ricevere stamattina una telefonata. Ha compreso che non c'è stata naturalmente alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno e di volerci Simona Branchetti, che sostituirà Barbara D'Urso fino a venerdì 7 gennaio 2022, ha aggiunto in diretta, Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili ma lui come me sa purtroppo che quando si sta sul campo non sempre è possibile. Siamo qui tutti per fare cronaca e raccontare in diretta anche fatti dolorosi come stiamo raccontando. Al momento nessuna dichiarazione è giunta da Alberto Matano, che aveva criticato in diretta lo stile giornalistico dell'inviata di Pomeriggio 5 piuttosto scocciato per la scaletta di puntata stravolta all'improvviso. Nessuna reazione neppure da parte di Barbara D'Urso, che si sta godendo questo periodo di ferie lontano.